È un'immagine simbolo della guerra in Ucraina. Sotto quella coperta termica vegliata dal nonno c'è Victoria, detta Vika, una bambina di 9 anni con il sogno di diventare ballerina. Non inquadrata vicino a lei c'è la mamma Ola, anche lei deceduta. Al vecchio uomo sono morti in un colpo solo la figlia e la nipote. Si chiamano con un eufemismo effetti collaterali. Su Vika e Ola è caduto un pezzo di missile sparato da 500 km di distanza e colpito dalla contraerea. Parliamo d'Ucraina, ma basta allargare lo sguardo come ha fatto l'Unicef che tra il 2005 e il 2022 ha accertato 315.000 abusi contro i bambini nei conflitti, violazioni commesse in Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina ed Europa se consideriamo la vicina Ucraina. Più di 120.000 minori uccisi o mutilati, una media di 20 al giorno, almeno 105.000 reclutati, oltre 16.000 vittime di violenza sessuale, numero per difetto. È probabile che il bilancio sia molto più alto. A Dnipro, due giorni fa, una bambina di appena due anni è rimasta sepolta tra le macerie di un palasso colpito da una bomba. I vigili l'hanno tirata fuori. Lo scorso primo giugno a Kiev una ragazzina di nove anni è stata uccisa durante un attacco missilistico russo, mentre il paese celebrava la giornata dei bambini. Celebrazioni che quest'anno le autorità ucraine hanno annullato. Una guerra che sta avendo un impatto devastante sui più piccoli, spiega l'Unicef. L'Organizzazione delle Nazioni Unite afferma che sono oltre 1.500 i bimbi uccisi e feriti in Ucraina dall'inizio della guerra.